BOMBE REMMIANO mette il porto del primo gol per il Casalveccio in questa stagione sportiva del 2017-2018. Si, un gol con l'intelligenza di Orazio Vittorio che mi ha battuto una palla a sorpresa e poi sono stato bravo a calciare e fortunatamente ho fatto gol. Il Casalveccio ha partito bene tre gol, tre a zero contro una squadra che ha giocato bene ma poi alla fine si ha reso e il portiere ha dimostrato di essere all'altetta anche se nel vostro terzo gol ha peccato con quella presa. Si, diciamo che il portiere è stato abbastanza bravo. Come partita era la prima quindi giustamente c'era un po' di tensione, tanto caldo che ha influito secondo me anche sui giocatori però era importante partire proprio di giusto. Abbiamo vinto e siamo contenti. Quali sono le aspettazioni per Miano in questa stagione? No, io spero intanto che con il Casalvecchio con tutta la squadra raggiungiamo l'obiettivo perché abbiamo un obiettivo che ci siamo prefissati e quindi speriamo che il singolo non fa mai niente quindi da gruppo, da squadra cerchiamo di raggiungere l'obiettivo. E come trovi con il tuo compagno Vittorio? No, io mi trovo bene con Vittorio, con tutti, con tutta la squadra possiamo migliorare tanto e sono sicuro che miglioreremo partita dopo partita. Ok, grazie. Grazie.